E' allarme sociale sulle imprese provenienti da fuori regione che vincono gli appalti e lasciano i cantieri a metà. Questa la denuncia di Gianfranco Giorgi, responsabile CISL per quanto riguarda la ricostruzione dell'Aquila. Non si parla più di singoli casi, dice Giorgi, ma di grossi gruppi edili che hanno interrotto i lavori di ricostruzione adducendo come motivazione principale le difficoltà economiche e finanziarie. Chiediamo al prefetto per questo la convocazione di un tavolo istituzionale alla presenza del presidente del Lance, di tutte le associazioni di categorie interessate e delle organizzazioni sindacali. Se necessario, continua Giorgi, auspichiamo la collaborazione della Guardia di Finanza per verificare lo stato di salute delle imprese che si aggiudicano gli appalti per la ricostruzione post-sisma. Una situazione che Giorgi definisce estremamente preoccupante. Riceviamo ogni giorno, continua il sindacalista, segnalazioni da parte dei cittadini e dei lavoratori sulla presenza di grandi gruppi edili che sulla carta hanno molte credenziali e che pertanto hanno acquisito numerose commesse all'Aquila. In talunni casi, dopo l'avvio dei lavori, i cantieri però sono stati lasciati a metà e nella peggiore delle ipotesi le società hanno fatto ricorso al subappalto con un gioco a ribasso. Tutta questa situazione, dice Giorgi, sta portando al blocco dei cantieri e ad un evidente rallentamento nella ricostruzione del territorio. Alcuni casi eclatanti sono ormai di dominio pubblico in calza a Giorgi ma non è tanto sul singolo nome che la Cisle intende porre l'accento quanto sulla rapida espansione del fenomeno che destano poche preoccupazioni.